Questa sera al Man, in questa calda serata del 18 agosto 2016, noi non siamo andati in vacanza, continuiamo ad offrire delle serate inserite nei programmi fuori mostra del Mito e Natura che danno la possibilità ai visitatori del museo di poter non solo constatare l'importanza e il grande numero di opere d'arte che abbiamo all'interno della nostra struttura, ma anche usufruire di altre forme d'arte come ad esempio il cibo, il vino che rientra appunto anche in tutti quegli elementi che nell'antichità ci hanno senz'altro accompagnato nel mondo greco e nel mondo romano. Quanti Dionisi noi abbiamo al Museo archeologico napoletano per cui quanto vino possiamo dare ai nostri ospiti. Una serata organizzata da un'associazione culturale Flegrea che ha presentato questo progetto di degustazione, come vi dicevo, di cibo, degustazione di vino ed anche nell'altro cortile alle 21 nel Giardino delle Fontane invece si avrà un'esibizione mista di arte mista, poesia e musica. Adesso abbiamo accettato e consentito che questa associazione Kine potesse usufruire dei nostri spazi e darci questa serata anche perché abbiamo una mostra molto importante sui campi flegrei, anche perché se siamo un museo archeologico ormai autonomo siamo un museo archeologico che guarda il territorio, non semplicemente il territorio napoletano e i suoi cittadini, ma tutto il territorio che ha avuto anche reperti, rinvenimenti che noi custodiamo da tantissimo tempo. Ecco quindi che cos'è questa serata del 18 agosto. Una serata in più, un avvenimento in più, un'opportunità ai cittadini napoletani e al turismo che vediamo numeroso ormai sta frequentando il nostro museo, veniamo fuori da un ferragosto di numeri elevati e di un mercoledì che ha fatto seguito ad una chiusura del martedì del post ferragosto che ieri ha dato meraviglia sulla frequentazione. Quindi noi vogliamo che questa città risponda ai nostri programmi e ai nostri progetti con l'entusiasmo che qualsiasi cittadino sentendosi napoletano debba avere. Tutto qui. Aspettiamo senz'altro i prossimi giovedì la stessa affluenza che stiamo avendo e che abbiamo avuto sino adesso. Grazie a tutti.